Per la World Cup è sicuramente una squadra, una buona squadra, l'ho dimostrato anche in questo inizio di World Cup, quindi sicuramente per noi domani dobbiamo partire bene e fare la nostra partita, il nostro gioco nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda la seconda domanda, è vero che non ci sono molti giocatori che hanno partecipato alla scorsa Olimpiade, però abbiamo tanti giocatori di esperienza e se qui stasera il risultato era un altro, magari non c'era neanche questa domanda, quindi bisogna stare con la testa bassa, stasera è andata male, però insomma io sono fiducioso. Sì, loro hanno ricevuto molto bene, è vero che noi a Tratti abbiamo battuto bene, però la loro recezione per tutta la partita è stata sempre costante, il loro pareggiatore ha sempre giocato con una palla buona e raramente ci sono state azioni di gioco dove la palla si staccava, quindi insomma diventa un po' complicato poi giocare così e alla fine, alla lunga, loro hanno avuto la meglio, però insomma io ho tolto il primo set, gli altri due comunque sono stati molto equilibrati e si sono decisi ai vantaggi, quindi non sarei così categorico. Grazie. 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 Grazie.